di opere o un testo sull'art financing sarebbe riportarlo a un ambito disciplinare, sarebbe riduttivo. E proprio il riduzionismo è messo in questione fin dalle prime pagine del libro. Nulla si riduce, scrive Armando Verdiglione. La riduzione è ontologica, toglie, assegna, simbolizza il resto. Il resto metaforico o del simbolo, il resto metonimico o della lettera e il resto della cifra, la cifra come restituzione. Come l'opera d'arte, questo libro non può ridursi a nulla di simile o di analogo, ridursi a un ricordo o a qualcosa di già conosciuto come critici, accademici e mercanti da sempre fanno con l'opera d'arte. Per questo possiamo chiamarli osservanti, perché il loro impegno sta nel costituire e nel chiudere l'arte in un discorso, senza resto, in una serie di rapporti sociali cui conformarsi e conformare l'arte. L'arte deve conformarsi al mercato? La vendita deve sottoporsi ai valori artistici? Il fine dell'arte può giustificare la vendita con tutti i mezzi? Il resto impedisce la finalizzazione e l'arte e la scrittura, la vita stessa esigono questo resto inosservabile, inassegnabile, che già 35 anni fa Verdiglione definiva non semiotizzabile. Un resto non analizzabile, che comporta che ciascun elemento sia analitico. Scrive Verdiglione, nessun elemento è inanalitico, ovvero non c'è più resto diurno. L'elemento è intellettuale, il resto è intellettuale. Fine della citazione. L'incontro non può essere finalizzato alla vendita. La vendita riesce quando non c'è più il fine, tantomeno la fine dell'incontro. La finalizzazione rincorre l'origine. Per questo è così naturale. Per questo Verdiglione scrive, virgolette, la questione è come il mercato dell'arte si sia ispirato al naturalismo, al discorso occidentale, al discorso della morte. Da qui vendere arte è come vendere una qualunque cosa naturale. Naturale, quindi umana, virgolette. Seguivano il naturalismo le commissioni delle opere agli artisti, dei papi e dei principi. Seguono il naturalismo gli accordi tra mercanti nel novecento e tra essi critici per stabilire i prezzi della commercializzazione. Seguiva il naturalismo la dicotomia, che proviene dall'ideologia illuministico-romantica, tra valore estetico e valore commerciale dell'opera. Il primo presunto appannaggio del critico, sapiente incontaminato dai soldi, il secondo dal mercante, remida disinteressato alla cultura. In questa dicotomia il primo, il critico, era funzionale al secondo, il mercante, che appunto doveva foraggiarlo, in un combinato disposto in un animale fantastico, disegnato dalla continuità circolare tra prostituzione sacra e profana, ovvero tra valori ideologici e ideologie di mercato. Questo animale fantastico avrebbe dovuto regnare sul mercato per ipnotizzare il cliente, finalizzando l'opera al profitto attuale di chi vende e futuro di chi acquista. Il consumatore soddisfatto, il cannibale è sempre da saziare, il cliente professionista di una vendita che Verdiglione definisce supposta sostanziale. In effetti si tratta qui di ciò che lui definisce, citazione, vendere il conformismo, includere il cliente nel conformismo. Perché conformismo? Perché qui i valori sono prefigurati, anteposti alla vendita e a essi l'opera, il venditore e l'acquirente dovrebbero conformarsi. La vendita come soggiacenza ha una mentalità. Come sorprendersi se fallisce, se nasce per finire, conforme come ha detto che il bel gioco dura poco? Impossibile, constata Verdiglione, pretendere che il cliente creda nei valori, portati dal venditore o rivendicati dai prodotti, dalle merci che il venditore ha con sé e che precederebbero l'incontro, togliendo ogni scommessa di valore. La vendita è presunta sostanziale anche nell'ideologia di chi si spaccia per venditore, scrive Armando Verdiglione, citazione, e vi dirà che vendere è fottere o convincere e che gli uni è meglio fotterli per vendere, gli altri per vendere è meglio convincerli. Verdiglione collega non a caso questa vendita al processo inquisitorio. Anche qui si tratterebbe di tecniche per ottenere il convincimento dell'interrogato. Un dialogo ora aggressivo, ora gentile. Una serie di interrogazioni che mirino a strappare il sì, appianando il contrasto, schivando la negatività, gestendo senza intoppi quella che non a caso viene chiamata la dimostrazione. Dimostrazione come se nella vendita si trattasse di un cogito, di giungere a una verità stabilita dai suoi presupposti. È questa la vendita come fine, la vendita che procede dalla corretta comunicazione, in cui dunque la parola è intesa come sostanza che il venditore sarebbe bravo a spacciare. Farmaceuticamente, ovvero con la parola come rimedio e come veleno. E con essa anche l'arte diventerebbe rimedio o veleno. Anche in questo senso Verdiglione può affermare che il mercato dell'arte si è ispirato al discorso della morte. Ma allora, come vendere senza naturalismo? Esiste una vendita che non si ispiri al discorso della morte? La questione che Verdiglione sottolinea è che nulla si comunica se non si vende. Dunque che la comunicazione procede dalla vendita, non la vendita dalla comunicazione. Non a caso prosegue, citazione, come vendere senza i concetti di medicina sacramentale e di medicina profana? Come vendere senza l'idea di purezza? Senza l'idea di origine? Come vendere senza l'idea della fine del tempo? E' altra vendita questa. La questione è che il brain worker non è il soggetto venditore, né il soggetto comunicatore. Non ha la vendita facile, la facoltà di comunicare. È statuto della parola, non osservante della parola con finalità commerciali. Citazione. è uno statuto intellettuale, chi comunicando adempia una missione e contribuisce alla civiltà in un processo di valorizzazione dell'arte e della cultura, in direzione del valore stesso della vita. E altrove precisa. La vendita non è un fine, ma è essenziale al messaggio. E dunque, Art Ambassador, chi conclude al messaggio. L'Art Ambassador, allora, è messaggero, ma non porta il messaggio, né inaugura l'era. Questo ambasciatore non è osservante, è venditore perché la vendita entra in un processo narrativo in quanto processo di valore, non perché è prestante nella vendita. Cittazione. Se la vendita si scrive e con la scrittura, l'arte e l'invenzione entrano nella comunicazione, lo statuto che segue è quello dell'Art Ambassador. Fine citazione. Nessuno è già ambasciatore. Lo statuto di ambasciatore risulta confermato se la missione approda alla cifra. Per questo la vendita è imprescindibile per ciascuno di noi. Ciascuno che trova la sua qualificazione nel messaggio, che diviene, per dir così, valoroso in quanto messaggero, in un itinerario in direzione della cifra. L'Art Ambassador è uno statuto essenziale per divenire caso di qualità, caso di cifra. Con l'Art Ambassador la vendita e il valore provengono dal tempo che non finisce, perché è costituito dal processo narrativo, che scrivendosi con l'apporto del pragma non finisce. Mentre lavorare per un fine, anche presunto nobile, e quale non è presunto tale, è limitante, sostanziale, mortifero, senza valore. Dal rinascimento all'era dell'Art Ambassador il valore non è insito nell'opera né imposto dal mercato, non è determinato dal fine, eroicamente, né dall'interesse del cliente. L'interesse è proprietà del sembiante, come scrive Verdiglione, non segno dell'essere e dell'intersoggettività, dell'ontologia o dell'agnosi. L'interesse del cliente blocca la vendita. Il cliente interessante invischia il venditore. Illustrare l'interesse dell'opera può essere utile. Ma non si tratta, scrive Verdiglione, citazione, di tramutare in manifesto ciò che talora viene chiamato dai tecnici latente. In effetti non è l'oggetto che si vende e non ci vuole molto tempo per vendere. Sembra strano, ma Verdiglione lo ribadisce scrivendo. La vendita è intransitiva. La cosa non è ideale, bensì una constatazione pragmatica. C'è vendita nell'incontro perché nel racconto l'oggetto e il tempo non sono venduti, sono venditori. Nel senso che l'interlocuzione giunge alla vendita perché non obiettiva l'oggetto e non taglia corto o spazializza il tempo. Citazione. La vendita senza tabù viene dal tempo innegabile, dall'infinito e dall'eternità del tempo. E? Chi chiude non conclude. Noto efficacemente Verdiglione. E prosegue. L'assenza di risultato preserva e salva l'anima candida. Allora il valore non è prima dell'incontro, interviene nel processo narrativo, si specifica nell'incontro. Per l'Art Ambassador la vendita è un aspetto essenziale della valorizzazione dei prodotti, dell'esperienza, della vita stessa. Per questo nell'incontro c'è una scommessa di valore, non un valore ontologico. L'arte e la cultura sono arte e cultura narrative, scrive Verdiglione. Per questo l'opera stessa in qualche modo non esiste prima del racconto, non è un prodotto finito. Un prodotto se finito non si vende. Altra cosa dalla fine è la conclusione che il fare esige come istanza finanziaria, come istanza dell'avvenire. Qui si gioca per ciascuno la partita decisiva. E, citazione, la partita è pragmatica, finanziaria. È la partita della vendita e della comunicazione. La partita per cui la verità non può essere data dalla forma del senso e del sapere. La partita per l'edizione, per la lezione. fine dell'attivazione. Cinque minuti in intervallo. Cinque minuti, eh? Non basta. È il contrario. E dall'arte e basta. È la vendita dell'arte. Eh? Eh? Allora. Arianna Silvestrini. Non ha letto il libro? Allora, ha preso degli appunti. appunti. Allora, legga gli appunti. Leggagli appunti. No? Non ha scritto nulla. Allora, legga quello che ha scritto. Non abbia paura, sì, siamo tutti fuori di noi. Venga. No, no, adesso, adesso. Leggagli, leggagli. Tranquilla. Sì, sì. Poi al pomeriggio leggerà un'altra cosa. Eccoci. Scenda. Bene. Emilio Vedova scriveva nei suoi quaderni, Non ho paura, già nel 1946, delle contraddizioni. Nell'arte ambassador, Verdiglione scrive, anzitutto la follia e non la ragione, il metodo e della vita. La follia che sta nella parola, non rappresentabile né attribuibile. La follia oggettuale, che è condizione dell'arte. Ma non serve. Sì. Il principio di ragione o di ragionevolezza non riesce a spuntarla sulle cose della vita. Il principio di ragione o di ragionevolezza non riesce a spuntarla sulle cose della vita. Gli schemi di padronanza e le briglie del fatalismo tentano di sbiadire il colore e l'ostacolo. Tentano di armonizzare il contrasto e la contraddizione. È la paura dell'arte. Padronanza e fatalismo tentano di negare la variazione costante delle cose. Tentano di negare la prosodia, la rhapsodia e la melodia, scrive Verdiglione, ovvero il modo in cui interviene l'avventura. La cifrematica constata che arte è variazione costante, un aspetto della struttura e artista è uno statuto intellettuale prima che un mestiere. È uno statuto narrativo che si avvale della sensazione del lutto impossibile originario, della sensazione del dolore impossibile ed estremo, della sensazione della verità senza accesso diretto, per giungere all'estetica, alla poetica e alla periegetica. Verdiglione scrive, nel libro Artisti, ciascun artista, alla sua favola, che lo mantiene nella produzione. Produzione costante, assenza di rispetto delle cose come tali. Nel terzo capitolo dell'Art Ambassador, aggiunge, scrive, evitare l'immagine, quindi la sembianza, nella narrazione è impossibile. Nella narrazione è impossibile evitare l'immagine, ovvero l'immagine non è questione di visione né di presenza, non è visiva né rappresentazione, non è forstello e non ha bisogno di identità a cui aderire o da distorcere. Come mettere in rilievo l'immagine nell'arte, nella narrazione, nella comunicazione? È un interrogativo che interpella gli artigiani dei mestieri della parola, gli artisti in quanto scienziati, gli intellettuali in quanto ricercatori provocati dalla carne. La scienza a cui si attiene l'artista, precisa Verdiglione, è la scienza della parola, la scienza che ha come unica e lussuosa fondazione la parola, la scienza della logica particolare in direzione della qualità. Come potrebbe attenersi l'artista in modo originario senza idea di consapevolezza, in modo originario ad altra scienza, l'esito forse sarebbe non l'arte ma il metalinguaggio, un linguaggio circoscritto all'epoca dei presenti assenti, senza infinito. Lo stesso vale per il gallerista, per il committente, per il collezionista. L'arte non è staccata dalla scienza, non è subordinata alla scienza, non è avulsa dalla scienza, scrive Verdiglione. La produzione artistica esige precisione scientifica e linguistica, esige anche l'articolazione del dialetto, la lingua sessuale, e un itinerario a partire dal glossario fino al nuovo lessico, fino all'edizione. Scrive Vedova, l'arte è all'infuori del tu di che partito sei, citazione di Vedova, minimal, gestuale, povera, land hard, concettuale, e si parla di arte d'avanguardia, di fine. L'arte è sempre altro. Verdiglione scrive, arte e invenzione non rispettano la società confermistica, e poi chiede, quali artisti negli ultimi 50 anni in Italia si sono sottratti alla definizione ideologica? Ci interroghiamo su quali siano i criteri con cui si costituiscono le collezioni. Il museo e la collezione si qualificano come modo della scrittura della memoria, come formalizzazione dell'esperienza, senza concetti, perciò senza turismi. Questi sono appunti. In alcune circostanze, il criterio con cui viene costituita la collezione sembra essere l'idea della fine. La collezione garantirebbe dall'oblio, sarebbe lo strumento per ricordare, per essere ricordato, per restare. Sarebbe la collezione a partire dall'idea di fine, senza semina, senza raccolta e senza restituzione. Così il gusto personale si dimostrerebbe un modo di negare la generosità e la restituzione. Senza più idea di fine, la pittura, il video, il disegno, l'installazione, persino la cosiddetta performance, procedono da una traccia immemoriale e si scrivono nel libro di valore. Anche per il collezionista, come per il gallerista o per l'artista, il metodo non è il principio di ragione o di ragionevolezza. Non c'è collezione galleria senza follia, come condizione, follia oggettuale. Il demone non è prendibile, salvo esercitarsi nelle bizze dell'indemoniato. Vale ciò che dura o vale ciò che si scrive? Scrive Verdiglione. È una domanda che interessa anche il gallerista, come il cosiddetto mecenate, come il committente. Il gallerista e il committente sanno quello che sa e scrive l'editore, Verdiglione, pagina 143. Nessuna conclusione senza forzatura. E poi ancora, impossibile anteporre il valore al profitto. Impossibile anteporre il valore al profitto. Salvo dare al valore un contenuto sostanziale elementale, togliendo ogni scommessa di valore. Il gallerista, in quanto statuto intellettuale, scommette e pone l'istanza di conclusione, di lucidità, di soddisfazione. Altra cosa dal lavoro del mercante, altra cosa dal committente. Ma chi è il gallerista? Perché una volta abbiamo detto che è il gallerista. È l'odio? Bisogna appunto indagare. Allora, sì? Altra cosa dal lavoro del mercante, altra cosa dal committente, che forse offre il pretesto colui che non pete e non concorre, senza comune causa. Altra cosa dall'Art Ambassador, che Verdiglione scrive, si qualifica come l'angelo, il messaggero. E l'ispirazione? Beh, concludo. Dove cercarla? Come svolgerla? Perché vuole concludere? Va davanti. Maurice Blanchot scrive che Orfeo si volta lì indietro per guardare la propria fonte di ispirazione e Rilke lo mette in versi. Ma l'ispirazione non si guarda che è già persa e l'ispirazione non è qualcuno di qualcuno. Verdiglione scrive che l'idea dello specchio, l'idea dello sguardo, l'idea della voce non è raggiungibile, non è toccabile. Camminando, l'ispirazione interviene come idea che opera in direzione della scrittura e in direzione della pittura, che nel libro Artisti leggiamo si qualifica come condizione della poesia, della stessa scrittura dell'esperienza. Grazie mille. No, questo... Ah, il resto del pomeriggio? Sì. Il resto lo legge al pomeriggio? Va bene, il resto lo legge al pomeriggio. Sì, dobbiamo dare la possibilità a Stefania Bersico che si... che dedica tutto il suo tempo al barlo delle anziane. Prego, prego, prego. No, no, prego. Allora, premere il pulsante. Eh, lega pure. Eh, beh. Prego, prego. Prego, prego. Prego. Pomeriggio anche. Anche il pomeriggio. Accenda il microfono. Allora, io mentre ero in treno, mentre... e riflettevo, non sono riuscita nemmeno a leggere, avevo con me il libro, il Master del Bear Walker, ma non riuscivo a leggere perché... perché c'è stata una... c'è stata delle riflessioni... cioè, ho riflettuto su alcune... su alcuni punti e passi di questo percorso. e mi interrogavo molto su quanto può essere nella vendita mortifero il commento. Commentare... cioè, questo è un pensiero che è venuto perché lungo i primi appuntamenti che ho avuto rendendo opere d'arte. L'errore... proprio... non un errore rimediato, non un errore che praticamente possa essere elaborato, ma l'errore proprio distruttivo è quello di commentare o entrare nel commento del cliente. diciamo del cliente. E mi interrogavo come... come questo intervenga in ciascun dispositivo. E quanto forse... occorre più che il commento, occorre rilanciare ciascuna cosa come... cioè, ascoltarla come provocazione, non come commento, no? Per poter... per dare un contributo all'elaborazione e anche alla teoria, e quindi alla pratica. perché il commento... l'unico modo per elaborarlo è fare. Fare... restituire... e... mettersi in gioco. Questo è il pensiero che... ma questo perché... eh... delle volte... eh... commentare può essere un modo per dire questa cosa non mi compete, perché quindi intetene la competenza. Commentare il lavoro... non c'è... non voglio... commentare è... eh... eludere il lavoro. Il lavoro è... dell'individuo. È impossibile commentare l'individuo. e questo è la scommessa. Questo è... è la scommessa... su cui intendo lavorare. Dovessero così? Sì. No, eh... proprio per nulla. Questa è l'approssimazione a un teorema. E quindi dall'approssimazione a un teorema... non puoi... non c'è nessuna scommessa. Quindi... è tutto da rifare. Comeriggio... Comeriggio... lo intepegliamo di nuovo. Ecco. Eric. Allora... 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 prego. 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 guardiamo i monti, la collina, l'orizzonte, il mare o verso una montagna. Nessuna realtà è obiettiva. del Master dell'Art Ambassador. Il Master dell'Art Ambassador. Come guardare, come fare, come scrivere, nonostante le nostre idee, quelle che riteniamo certe e naturali. le nostre idee... non... non sono obiettive, no? ma pensano... va bene, è giusto, non sono obiettive. poi... nemmeno soggettive. ah, le nostre idee. le nostre idee, certo. non possono essere una realtà obiettiva, insomma. sì. le idee naturali proliferano, per dire così, ci sono escluse dal viaggio, dalla narrazione. non sono... non sono più naturali nell'opera di ingegno. giusto. non sono naturali. l'opera, l'opera di ingegno è naturale. appartiene alla natura o trova nella natura la sua causa. i monti, la collina, l'orizzonte, il mare, sono la natura. sono elementi della narrazione, della memoria in alto. non sono da commentare perché sono irrappresentabili. non sono presenti con tutte le nostre idee. idee. i monti, la collina, l'orizzonte, il mare, di Nicolai Cristolubov, ad esempio. vogliono dire non sono immagini di qualcosa. restano infigurabili. eppure nella narrazione sono monti, collina, orizzonte, mare, nella nudità. nudità senza spettacolo, nudità senza verità svelabile. le opere nella narrazione. e nella narrazione guardiamo i monti, la collina, l'orizzonte, il mare. mai standard, mai identici. il formato standard è proprio dell'erotismo. la generazione invece investe la sessualità. algebra e geometria sono senza generazione. all'insegna del piano. e se le cose stanno in un piano, sono facilmente visibili, tutte sott'occhio. nelle opere di Cristolubro degli anni cinquanta e sessanta, quelle che ritraggono i paesaggi delle campagne russe nelle varie stagioni dell'anno, emerge la questione della generazione. la generazione delle messi delle erbe floride. non c'è mai la faccia di televisione delle cose. la generazione non è lo sviluppo secondo un ordine, un formato, un piano predisposto. nelle marine o nel mare, ci sono Murmansk o Koskoe, per esempio, c'è un altro modo non prestabilito. le campagne sono forse desolate, rappresentano magri covoni sul finire della buona stagione, estamberghe fatigenti. nemmeno le primavere poi insomma, sembrano apparire rigogliose. e si distinguono apparentemente solo per un verde più marcato. ma non c'è la facile visione delle cose, non c'è la visione dei tesori. dopo le grandi crestie, le crestie di stato, è impossibile la rappresentazione della ricchezza. ma c'è un altro lusso, il lusso della generazione. sono queste opere che ritraggono paesaggi che si trovano nel lusso il lusso del dipingere ben oltre i problemi del partito di cui Nicolai è indifferente, come racconta Armando Verdiglione. Gli ritratti senza antropomorfismo non appartengono, non partecipano e non condividono nulla dell'umano. le usure della parola impediscono l'antropomorfismo infigurabile e irrappresentabile. Le stagioni non si succedono, non subentrano. l'autunno non è dopo l'estate, non è prima dell'inverno. L'autunno non è generato dall'estate. Si potrebbe azzardare guardando l'opera dai covoni apparentemente denutriti nell'opera autunno nella regione del Volga. C'è una generazione che non dipende dalla precedente. La generazione non dipende da quello che starebbe prima perché prima non c'è. La tradizione non sta prima. La memoria non sta prima. La parola non sta prima dell'azione. La memoria è narrante. La facoltà presuppone che il dopo sia generato dal prima. E nelle ricerche i segni di riconoscimento, i segni del dopo o i segni del prima che occorrerebbe prevedere. non c'è prima e dopo perché non c'è rapporto tra due in quanto due cose. Non c'è la primavera e l'autunno a mettersi in rapporto. i magri covoni dell'autunno non possiamo immaginarci un inverno da fame. L'opera non può essere lo strumento di denuncia. Sarebbe come una messa nudo e la messa nudo si colloca sempre tra iconocrastia e iconodulia. Non possiamo rendere circolari le cose ma perché magri? le alte pertiche su cui si addensa il fieno le cupole del fieno e i pinnacoli dei covoni la verticalità e la lunga striscia orizzontale del cielo e della terra il contrasto dice un'opera sera a Kiva il mare di Okskoe forse è questa struttura, questo disegno che importa a Cristo Lubov che ritroviamo nei vari ritratti del Cremlino e non la demistificazione non l'illustrazione della miseria e della povertà in queste opere il Cremlino è dipinto con le sue ugli e rotonde e i pinnacoli che sembrano cappelli a punta e le mura tra una torre e l'altra il quadrato, la questione è chiusa ma l'invenzione di Cristo Lubov è proprio quella di evitare il disegno del quadrato non fa quadrato e sul Torione in primo piano si inventa varie pennellate orizzontali come anche nella pagoda buddista non c'è una verticalità totale non c'è una celestialità totale del potere non c'è una celestialità totale del potere c'è un no insomma la verticalità e orizzontalità non vengono prima e dopo non si scontrano si incombinano in un'invenzione e di questa invenzione si nutre l'opera possiamo azzardare che l'autunno si combina con l'inverno allora abbiamo varie pagine varie opere come pagine di un testo come anche annota Salvatore D'Addario parlando dei suoi ritratti agli artisti e allora se non c'è successione ma combinazione non c'è competitività le stagioni non competono tra loro e l'inverno non cannibalizza la ricchezza che avrebbe lasciato l'estate non riesce il fantasma di padronanza che incarna ogni potere interna in terra non c'è cannibalizzazione perché le ricchezze non sono tesori non sono frutto dell'analità la generazione non è anale le ricchezze non sono i miei tesori che deriverebbero dall'economia del peccato, del male, dell'incesto c'è la ricchezza non evidente non esibita nel testo di Cristo Lubo e forse è proprio l'assoluta assenza di rivendicazione che ha fatto sì che questo pittore potesse lavorare in Russia e addirittura viaggiare in Italia, nell'estremo Oriente non c'è rivendicazione vale a dire che non c'è la rappresentazione del debito totale della dipendenza non c'è in altri termini la rappresentazione del formalismo dell'immagine canonica pur ritraendo paesaggi apparentemente naturali non c'è rivendicazione impossibile attribuire il soggetto se non per escludere dal gruppo sarebbe un ritratto umano una pittura facile accade che ci sia chi faccia vedere di essere di ampi vedute di ampi sentimenti di ampia intelligenza e sia disponibile per di più ma questa grande apertura in effetti è la chiusura basta solo l'enunciazione di una leggera obiezione ho appena un dubbio perché venga decretata l'esclusione ben oltre le ampie vedute un istante prima decantate non c'è rivendicazione nella vita particolare a ciascuno impossibile appartenere partecipare o condividere la vita e mettere al servizio del cambiamento del mondo l'arte non è servile la cultura non è un meccanismo nell'organismo del mondo come propone il realismo convenzionale e comune tanto amato da ogni potere grazie applausi 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 adesso dopo questo testo sentire di nuovo Stefania Persico insomma magari è pomeriggio eh pomeriggio che è un periodo dopo divide la condanna alla città somma usc applausi Allora pomeriggio cominciamo con la dottoressa Costa, poi dopo avremo tempo di sentire Stefania Persico perché lei è troppo impegnata nel barlo delle Befane. Ok, grazie. Alle due e mezzo precise. La Stefania Persico mi si è riservata a fare il suo intervento oggi pomeriggio e poi chi è intervenuto ancora? Cyril, che non aveva redatto ancora il testo però aveva letto alcune cose, aveva esposto alcune cose, adesso non c'è. E poi chi? Eh? Dalla parla, l'ho già detto, l'ho già detto. Quindi adesso noi, noi, ho capito, allora, allora, sentiamo sentiamo allora la dottoressa Elisabetta Costa, come avevamo stabilito. qualcuno ha lasciato qui i suoi libri? Ah, no, no, sono i suoi libri. Ah, ecco, bellissime. la vendita. L'articolo 1470 del codice civile pretenderebbe di dare dalla nozione di vendita. la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. nella quarta lezione del Master dell'Art Ambassador si legge è il nudo, attinente all'anatomia e al tempo, la base della vendita e anche della sua scrittura, la base della pornografia. Il nudo è proprietà del narcisismo, fine citazione. Quindi è proprietà della cosa. Dunque la cosa non si vende, anche perché la proprietà non è della cosa ma è proprietà intellettuale, che non si trasferisce, a meno di leggere il trasferimento come transfer e dire che la cosa è in viaggio. La cosa è in viaggio, il narcisismo è della parola, da qui la vendita. Cosa si vende? Citazione. Il tabù della vendita è anche il tabù della verginità. È per purismo che la vendita diventa tabù. dal secondo rinascimento. La rivista. Se il sì e il no sono fiori del tempo, citazione, la vendita è il frutto del tempo e quindi dell'impresa e si rivolge all'estremo prodotto, cioè alla qualità. Il prodotto sta, per dire così, oltre la vendita, oltre la conclusione, oltre il piacere. La vendita di sé nega qualcosa di innegabile, nega la giustizia di sé. La vendita dell'altro espunge qualcosa che non si può espungere, nonostante il principio del terzo escluso e il principio di selezione, e cioè il diritto dell'altro. Esplorare la vendita comporta esplorare prima di tutto la giustizia e il diritto. E il diritto è costituito dalle sue virtù. La generosità, quella per cui voi siete qui oggi, quella per cui nessuno toglie nulla all'altro e nessuno aggiunge nulla all'altro. L'indulgenza, ciò che ha comportato l'era moderna. E poi l'umiltà, ovvero dell'altro nessun segreto, nessuno svelamento, nessuna messa nudo, nessuna giustizia dell'altro. La vendita, proprio del tempo, è anche l'ascolto. Umiltà, disposizione alla vendita, disposizione all'ascolto. Dalla rivista per ragioni di salute. La quinta lezione del Master dell'Art Ambassador comincia così. Che cosa si frappone all'instaurazione dell'Art Ambassador? La paura, il fantasma di morte, il senso di colpa, il concetto di segreto. In definitiva, la dottrina della vendita come dimostrazione. Tutto avviene come se, attorno alla vendita, su si stesse un cogito, la cui variante è il cogito del figlio al prodico. Codersi il patrimonio, venderlo. Codersi l'eredità, venderla. Anche i beni sono intesi come beni ricevuti, i beni che si posseggono. È l'ora di lapidare, sperperare, sprecare i beni. Vendo dunque sono. L'acquisto facile, la vendita facile. La facoltà di vendere e di acquistare riportano la vendita alla genealogia. Fine citazione. La variante del cogito del figlio al prodico allude all'atteggiamento del figlio più giovane, che dice al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, per venderli. Mentre al figlio maggiore il padre dice, figlio, tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue. E quindi il figlio maggiore avrebbe l'accesso diretto al godimento dei beni. Quando un padre è in fin di vita, i figli che lo accudiscono vengono accusati dai fratelli di godersi i beni, tra virgolette, sottraendoli alla vendita futura. Effettivamente il godimento dei beni è impossibile, benché il codice civile, l'articolo 832, dia la definizione del diritto di proprietà dicendo che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, perché il godimento, nell'accezione originaria, è effetto di senso e di dispendio ed è intransitivo. Anche il dispositivo è delle cose, nel senso che le cose si dispongono, ma non nel senso che il proprietario dispone le cose o delle cose. Questo è un concetto marxista. Le cose si dispongono secondo la proprietà intellettuale, è un'ipotesi. Ma nessuno sa dove, come e quando si dispongono le cose, neppure il proprietario, neppure l'imprenditore. Nella peste, Armando Verdiglione scrive La vergogna pone un accento supplementare sulla sensazione di godimento e definisce un'estetica resa personale, finicitazione, ponendo il godimento non in una funzione, nella funzione di altro, ma nell'estetica, nella logica delle sensazioni. Ancora citazione. E l'angoscia costituisce il modo di sentire il godimento localizzandolo, delimitandolo, insomma defraudandolo, invano, altro dispendio. Cosa può assicurare la certezza di un linte del godimento se esso non può narrarsi e se l'angoscia sfocia nell'incontro? Peraltro, con la nausea, irrompe la rimozione che non vuole lasciarsi togliere, cedendo magari il posto a un punto fisso, tale da sostenere la pertinenza della serie. Rientrando nell'ontologia dello specchio, il dubbio metodico non rimedia alla nausea, cerca di portarla come un abito. E poiché non si tratta di un bene, del godimento non c'è diritto, ma è imperativo. Fine citazione. E quanto sopra, questo potrebbe rendere ragione del perché, nella parabola del figlio prodigo, né il figlio più giovane che vende i beni, né il fratello che li gode, siano soddisfatti. Sembrerebbe, a questo punto, che l'angoscia sia la spia del godimento e che quindi non ci sia angoscia nella vendita. Se abbiamo l'angoscia di vendere, ci stiamo attorcigliando intorno al cogito della vendita. E che cos'è il codice della vendita, se non la vendita ideale, l'ideale della vendita, che ha questa formulazione, vendere al miglior prezzo? Il miglior prezzo sarebbe il prezzo reale, il prezzo impossibile. Il prezzo, secondo la prova di verità, il prezzo che procede dal contingente, tiene conto e integra il profitto e il valore. Anziché la vendita ideale, che sottintende il godimento del venditore o dell'acquirente e porta l'angoscia, la vendita dell'Art Ambassador, quella che procede dallo scambio e si scrive inaugurando un incominciamento e un debutto. Proseguendo nella quinta lezione del Master dell'Art Ambassador, vendere o abbandonarsi, il recesso o il decesso, che cosa si frappone alla vendita? Che cosa ancora si frappone all'instaurazione dell'Art Ambassador? La commozione. Un adagio recita. I grandi dolori sono muti, ma il lutto e il dolore sono estremi. Se rappresentati, commuovono. Paul Klee scrive Verkisweg, l'opera e la via. Ed ecco allora la traccia, il disegno, il dispositivo, il club. La procedura per integrazione esclude lo statuto sociale. Finita la citazione. Il cattolicesimo esclude l'angoscia di vendere, la vergogna e il podore. La procedura per integrazione, cioè il cattolicesimo, citazione, esige il nudo. Il nudo è proprietà della parola, tanto con la solidarietà quanto con l'ospitalità e con il patto, con il dispositivo della riuscita. Nessuno può assumere i mezzi, i modi e gli strumenti della parola per dominarli, per gestirli. In questo senso nessuno è medico. E la cura stessa si attiene al nudo della politica e della diplomazia. Al nudo del diritto e della ragione dell'altro. Al nudo del giudizio. La clinica è il compimento della scrittura della vendita. La piega, l'ascolto, la vendita. L'ospitalità è questa. Ma se, parodiando sulla scia della questione cattolica, dovessimo indicare uno statuto come medico, diremmo che è lo statuto dell'Art Ambassador, lo statuto della salute. Finicitazione. Nella sesta lezione del Master, citazione. Anatomia o tempo? L'anatomia è venditrice, il tempo è venditore. E la pornografia è scrittura della vendita, nella dimensione di sembianza e nella dimensione di linguaggio. Nessuna vendita con l'iconoclastia o con l'iconodulia. L'androgeno vende. Nel mondo protestante, nel mondo ortodosso, con l'ausilio delle varie mafie, avverrebbe la vendita neutra, la vendita pura, la vendita ideale, una vendita senza il nudo, una vendita senza la scrittura, senza la parola, una vendita ineffabile. La vendita ineffabile è il do-ud-des, il rapporto padre-figlio della parabola del figlio prodigo, nella versione algebrica del dammi la mia parte e partì, o nella versione geometrica, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai dato un solo capretto per fare festa con i miei amici. L'algebra o la geometria della vendita, nella migliore delle ipotesi approda alla commedia all'italiana. neppure lo scambio della cosa contro il prezzo, la definizione giuridica di vendita, rappresenta il do-ud-des, perché lo scambio resta senza finalità. Lo scambio è senza fine se la sostituzione non è piena e il malinteso non si risolve. A pagina 102 del Master vale ciò che dura o ciò che si scrive e questo vale che indica il valore evoca anche la salute. La salute non si vende, ma la vendita è indispensabile alla salute. è proprio così. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.